Perché alcoolisate purtroppo è per sempre è una cosa che poi più che altro è una cosa che molta gente dice no ma io non sono io bevo solo tutti i giorni ma non sono alcoolisate tu Quanto bevevi fernanda a quanto bevevi tre bottiglie di vino al giorno Il tuo marito è stato un dono di dio per te sicuramente senti tu hai confessato di averlo anche picchiato un giorno esatto è quello quello giorno che io ho detto basta E lui neanche per si difendere lui neanche per si difendere mi ha tenuto il braccio perché lui poteva massacrarmi di botta perché è un uomo enorme lui è così veramente un regalo che E mi vedevo brutta mi vedevo non mi è mai piaciuto e mi sono mai piaciuta la mia faccia e mi dicevano tu sei bella non ci credevo mai Perché c'era questo marciume dentro e oggi anche con 42 anni io mi guardo mi sveglio al mattino e guardo e mi dico mamma mia quanto sono bella quanto sei bella Il員 As despertato la mia faccia alla sì E allora